Salve a tutti! Oggi parleremo dei termistori di tipo NTC. Che cosa sono i termistori di tipo NTC? Sono dei componenti elettronici, come quello che ho riportato qui sul foglio, a due terminali che si comportano come una resistenza ma che varia il suo valore in funzione della temperatura. Come sappiamo tutti i metalli però variano la loro resistenza in funzione della temperatura, però il materiale di cui è composto questo componente presenta una fortissima variazione di resistenza al variare di piccoli intervalli di temperatura. Inoltre la tipologia NTC che sta per negative temperature coefficient, non solo varia la sua resistenza ma la varia in modo negativo. Quindi all'aumentare della temperatura la sua resistenza diminuisce. Al contrario dei tipi PTC che invece all'aumentare della temperatura vanno ad aumentare la loro resistenza, proprio come tutti i metalli che conosciamo. Questo tipo di componente viene generalmente utilizzato sia in applicazioni dove è necessario limitare le correnti transitorie, quindi tipiche applicazioni di inrush current, oppure viene utilizzato, come nel caso che vedremo noi, come sensore di temperatura. Il circuito che viene generalmente utilizzato è questo che ho riportato sul foglio ed è in pratica un semplice partitore resistivo, quindi abbiamo una resistenza di valore noto che inseriamo noi e il nostro NTC che va a variare appunto la sua resistenza in funzione della temperatura a cui è sottoposto. Questo circuito sarà poi alimentato con una tensione nota e noi andremo a misurare la tensione che c'è nel nodo centrale del partitore. E quindi com'è che funziona questo circuito? Funziona che quando l' NTC va a variare la sua resistenza varierà anche la tensione che ci sarà su questo nodo e quindi noi tramite dei semplici calcoli di trasduzione riusciremo a risalire al valore attuale della resistenza e quindi poi di conseguenza anche alla temperatura a cui è sottoposto. Il sensore NTC che ho scelto per realizzare questo circuito è quello che vi ho fatto vedere prima ed è in pratica l'MF52AT che presenta una resistenza caratteristica a 25 gradi di 10 KM, mentre il valore di resistenza noto R1 l'ho scelto pari a 1 KM. Mentre per quanto riguarda la lettura della tensione di uscita e la sua conversione in una temperatura, questa sarà fatta da un microcontrollore, nello specifico un Arduino Nano e adesso andremo a vedere come si effettua questa conversione. Ecco qui la tabella di conversione che andremo ad utilizzare e adesso cerchiamo di capire che cos'è che c'è scritto. Le prime due colonne sono prese direttamente dal datasheet, infatti chi lo produce è andato già ad effettuare delle misurazioni e quindi noi abbiamo già la correlazione fra il valore di resistenza dell'NTC e la temperatura letta e infatti se ci fate caso a 25 gradi abbiamo proprio che il valore di resistenza letto è di 10 KM, che è appunto il valore che abbiamo visto prima di quell'R25 perché la resistenza caratteristica di questi componenti si misura a 25 gradi. Nella terza colonna sono andato semplicemente a convertire in HOM i valori in KILOM riportati sul datasheet quindi in pratica sono questi valori moltiplicati per mille in modo da avere dei dati più maneggevoli. Nella quarta colonna abbiamo la tensione letta in uscita dal partitore resistivo. Infatti considerando che il nostro partitore resistivo verrà alimentato con una 5 volt e sapendo che la resistenza inferiore è pari e costante a mille ohm quello che sono andato a fare è andare a calcolare la tensione che si legge in uscita quando l'NTC assume questi valori riportati appunto nella terza colonna e quindi di volta in volta mi sono andato a ricavare questi valori di tensione letta. Nella quinta colonna sono andato invece a ricavare i valori equivalenti a cui corrispondono le letture di queste tensioni. Infatti l'Arduino nano ha dentro un ADC a 10 bit quindi andrà a dividere l'intervallo di 5 volt in 1024 divisioni quindi banalmente quello che sono andato a fare è stato rapportare questi valori di tensione letta nell'intervallo 0 1024. E già arrivati a questa colonna della tabella noi siamo in grado di ricavare un'equazione in grado di convertire i valori di tensione letta in un valore di temperatura equivalente. Infatti riportando in ascisse su questo grafico i valori equivalenti letti e in ordinate il valore di temperature otteniamo questa curva blu. Successivamente utilizzando lo strumento linea di tendenza sono andato a fare interpolare a questa linea blu una polinomiale del terzo ordine e questa è l'equazione ottenuta. Quindi inserendo questa equazione in Arduino ed sostituendo alla x di volta in volta i valori letti dal suo ADC otterremo direttamente i valori di temperatura del sensore. Arrivati a questo punto però si potrebbe prematuramente dire che la conversione è conclusa. In realtà però esiste un problema. Tornando alla tabella di prima e al circuito del partitore inesistivo dobbiamo notare però che c'è un problema. Ovvero che questo circuito per funzionare correttamente deve far scorrere una certa corrente all'interno delle sue resistenze. E che cos'è che succede quando scorre una corrente all'interno di una resistenza? Succede che si sviluppa calore. E cosa succede se si sviluppa calore? Succede che le resistenze si riscaldano. Ora, se fossero delle resistenze normali sappiamo che non cambia nulla. Ma essendo che stiamo parlando di un componente che varia la sua resistenza in funzione della temperatura, questo può essere un problema. Quindi che cosa ho fatto? Nella sesta colonna sono andato a calcolare la potenza termica generata dal nostro NTC ai diversi valori di resistenza che può assumere a secondo della temperatura attuale che sta misurando. E considerando che il nostro NTC ha un coefficiente di scambio termico globale pari a 0.0025 Watt per grado, otteniamo nella colonna 7, andando a dividere la potenza interna generata per quel coefficiente, l'incremento di temperatura del nostro NTC. Quindi quello che in pratica succede è che la lettura di temperatura che noi andremo a fare sarà quella reale che c'è intorno al componente più un incremento dovuto alla sua generazione interna di calore. E quindi questo ovviamente è un errore di misura. Se noi adesso riportiamo su un grafico quello che abbiamo appena detto, ovvero mettiamo in ascisse i valori di temperatura letti e inordinate l'errore che si commette a quella determinata temperatura, otteniamo la curva di errore del nostro sensore. Quindi anche in questo caso sono andato ad utilizzare lo strumento linea di tendenza e ho ottenuto questa interpolazione lineare della curva degli errori. E questa è l'equazione che ho ottenuti ovviamente avrei potuto utilizzare una polinomiale di ordine superiore, però in realtà visto i bassi valori di errore non ho ritenuto necessario complicare l'equazione più del dovuto. Quindi una volta ottenuta anche questa seconda equazione, qual è il processo logico per misurare correttamente questa temperatura? In pratica il microcontrollore prima calcolerà il valore della temperatura misurando la tensione, dopodiché andrà a diminuire questo valore del corrispettivo errore. Molto bene, quindi adesso non mi resta che costruire il circuito e scrivere il codice e poi ci vediamo successivamente per la fase di test dove effettueremo qualche misura di temperatura. Ho montato l'Arduino con il suo circuitino su una PCB, il tutto su una travoletta con tre connettori, ovvero l'alimentazione è due per i sensori NTC, in quanto poi lo utilizzerò per due sensori di temperatura, attualmente però ne ho montato solo uno, quindi questo qui con il suo cavo di prolungamento. Qui vediamo anche il circuito di pulldown, ce ne sono due, quindi con una resistenza da 1K e un condensatore da 100nano. E poi ho montato un display a 4 cifre per vedere appunto la temperatura del sensore e per compararlo sono andato a metterlo vicino al sensore della termocoppia, il tutto davanti a una vendola di aria calda, quindi diciamo che misureranno la stessa temperatura, con qualche differenza piccola ma sono sulla stessa posizione. Infatti possiamo vedere, ora la temperatura è quasi uguale, no, sta salendo, ancora si sta riscaldando, il sensore NTC porta 50 gradi, mentre la termocoppia intorno ai 44-45. Quindi il circuito e il codice funzionano perfettamente. Molto bene, quindi come abbiamo potuto vedere questo metodo di conversione dei dati consente di misurare la temperatura con un NTC in modo corretto. Ovviamente io lascerò in descrizione al video i file relativi alla tabella e al programma Arduino per quando riguarda il part number MF52AT. Quindi se qualcuno volesse utilizzare questo sensore nei propri progetti si troverà la tabella già compilata e il codice già fatto. Mentre se si va ad utilizzare un altro part number del sensore, beh, quello che bisognerà fare sarà rifare la tabella, riottenere le equazioni di conversione e poi andarle a sostituire nel codice. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.